prende forma il nuovo consiglio comunale di pesaro fra conferme novità e incognite caporalato ad acqualagna un imprenditore cinese si arricchiva sfruttando con nazionali in un laboratorio tessico rivoluzione nella socezione albergatori pesarese si dimette il presidente paolo costantini safety love in piazza del popolo i big della musica nel nome della sicurezza sul lavoro sport ital service si cambia interrotto il rapporto con l'allenatore fausto scarpitti benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 12 giugno che apriamo con gli sviluppi sulla creazione della prossima amministrazione pesarese alla luce dell'elezione a sindaco di andrea biancani nel nostro primo servizio andiamo a scoprire chi sono i 32 consiglieri eletti nell'attesa di scoprire chi di loro entrerà in giunta e chi invece andrà a ricoprire altri incarichi pubblici vediamo il risponso delle urne delinea il nuovo consiglio comunale di pesaro il 60,6 per cento ottenuto dal neosindaco andrea biancani porta in assise 21 consiglieri dalla coalizione di centro-sinistra ovvero uno in più dei venti con cui partì lo scorso mandato di ricci 21 consiglieri di cui 10 del partito democratico cinque dalla lista biancani sindaco due da una città in comune di enzo belloni una per ciascuna delle altre quattro rappresentanze in coalizione ovvero forza pesaro alleanza verdi sinistra movimento 5 stelle e il faro per l'opposizione arrivano cinque consiglieri a fratelli d'italia tre a pesaro svolta uno ciascuno per pesaro lega e forza italia una situazione quanto mai mobile però in maggioranza visto che sono stati rieletti con cospicua dote di voti tutti gli ultimi nove assessori idem per marco perugini presidente del consiglio comunale uscente le presumibili conferme di buona parte di questi in giunta oltre all'assegnazione della presidenza aspes suggeriscono un gioco di ripescaggi di metà dei consiglieri di maggioranza ci sono poi i ritorni di luca pieri sarà mengucci monica manenti e la conferma di luca pagnoni di dario fra le new entry giovani riccardo bernardi timotio tiberi la garante dei disabili marusca palazzi romina domini cevelina anniballi della lista biancani sindaco francesca tomassolli di una città in comune e stefano donini del faro all'opposizione c'è l'ingresso di marco lanzi al fianco di diversi confermati a cominciare da michele redaelli e giulia marchionni ovvero i due che hanno incassato più voti oltre a dario andreolli per la lega daniele malandrino per fratelli d'italia e giovanni dall'asta che ora diventa anche consigliere regionale occupando il ruolo lasciato vacante da luca serfilippi neosindaco di fano novità per la rappresentanza di fratelli d'italia con l'ingresso di giovanni corsini cristina natalia canciani e la coordinatrice serena boresta per forza italia entra mauro marinucci per la lista pesaro antonio bartolomei è un consiglio comunale che riparte con tante conferme ed anche qualche novità fra queste spicca quella di riccardo bernardi che è il più giovane fra gli eletti sospinto da un cospicuo numero di voti ottenuti riccardo bernardi ruolo diciamo consigliere comunale visti i risultati delle elezioni 388 voti partiamo proprio da qui te lo aspettavi no sicuramente abbiamo fatto un bel lavoro una bella campagna elettorale sia come come lista sia con i ragazzi che mi hanno sostenuto e il risultato sicuramente è un ottimo risultato quasi inaspettato però sapevamo di aver fatto un bel lavoro cercando di portare soprattutto la voce dei ragazzi all'interno del consiglio comunale pensi che appunto il bacino principale sia stato proprio quello dei giovani che cercavano un rappresentante ricordiamo l'età 22 anni giusto esattamente sì penso che i giovani abbiano avuto un grande spazio in queste elezioni io sono già stato coordinatore del forum giovani quindi già in stato lavorato per per portare appunto la voce dei giovani all'interno del nostro comune penso anche che un ottimo lavoro sul territorio del mio quartiere che sarebbe montegranaro ha portato un vantaggio in più ecco forse un diciamo un record di questa tornata elettorale tra le prime candidature under 30 a livello di voti sicuramente un record quello dato dall'età il più giovane del consiglio comunale forse nella totalità da vedere un attimo come gestirà la lista il centrodestra ma per quanto riguarda il consiglio di maggioranza sei il più giovane di tutti come si vive anche questa parte questa rappresentanza non peserà su di te il peso dei giovani beh sì è naturalmente un onore poter rappresentare i giovani all'interno della maggioranza di centro sinistra secondo me è un po' il segno che sta arrivando del cambiamento del cambiamento fatto coinvolgendo i ragazzi in tutti i processi decisionali e questo è un altro passo in più e però il lavoro non finisce qui anzi inizia ecco parlando appunto del lavoro che lavoro c'è da fare su pesaro per i giovani su pesaro per i giovani bisogna bisogna portare avanti una serie di progetti che secondo me sono fondamentali valorizzazione del forum giovani e del progetto ossigeno sicuramente prima di tutti cioè dare il diritto all'ascolto ai giovani tramite il forum giovani e diritto a uno spazio ai giovani tramite progetto ossigeno e poi riuscire a mantenere un po' quelle che sono tutte quelle tematiche anche di aspetto di intrattenimento ludico che vediamo oggi all'interno della nostra città a partire dal mantenimento di viale trieste come luogo appunto anche di intrattenimento giovanile. Molte volte la politica magari fa fatica a rappresentare i giovani però i giovani hanno i propri temi noi l'abbiamo dimostrato già in passato con Fridays for Future di cui sono stato coordinatore di cui ho portato avanti le istanze anche durante questa campagna elettorale e su tematiche molto vicine al sentimento giovanile ad esempio una grande battaglia sarà fatta e cercherò di portare avanti sul tema della salute mentale portando temi proposte come lo psicologo di quartiere che permetterà a giovani ragazze e ragazzi di entrare diciamo in una fase di terapia tramite appunto il supporto del quartiere per poi essere rindirizzati a dei servizi e a chi poi dovrà seguirli poi nella parte più sanitaria ecco. Dai consiglieri di maggioranza passiamo a quelli di opposizione c'è una minoranza di centrodestra che ora si riorganizza come ci spiega in questa prossima intervista Giulia Marchionni rieletta al consiglio comunale con il maggior numero di voti per quel che riguarda la lista pesaro svolta di Marco Lanzi. Con 455 voti ottenuti Giulia Marchionni viene rieletta in consiglio comunale come seconda candidata più votata nella coalizione di centrodestra e come prima della lista pesaro svolta un risultato importante a livello personale ma che a livello collettivo vi lascia all'opposizione. L'obiettivo era la vittoria di Marco Lanzi e tutti i candidati a cui dobbiamo un grande ringraziamento negli ultimi cento giorni hanno galoppato per riuscire a sostenere Marco sicuramente purtroppo l'esito delle urne la democrazia parla chiaro non ha dato il risultato che speravamo saremo all'opposizione e lo faremo con un grande con un grande risultato sia in termini di voti perché la lista civica è stata forte ha avuto un grande consenso su tutto il territorio pesarese ma lo faremo anche consapevoli che bisogna iniziare a costruire il futuro da questa sconfitta si riparte per cercare di fare ancora meglio la prossima volta. Dopo dieci anni cambia il sindaco e cambia parzialmente il vostro schieramento all'opposizione restano però alcuni punti fermi ed entrano alcune novità a cominciare da Marco Lanzi. Marco sarà con noi in consiglio e questo sicuramente ci darà sia forza sia vigore nel lavoro che faremo come opposizione. Per quanto riguarda gli altri sicuramente va fatto un grande in bocca al lupo ad Andrea Biancani che le urne hanno voluto sindaco di Pesaro però poco cambia il personalismo secondo me sarà lo stesso il grande strapotere che avranno in consiglio comunale con tanti consiglieri di maggioranza ci farà soffrire perché non abbiamo i numeri per contrastarlo salvo la possibilità e questo mi auguro possa esserci di trovare sponda su proposte che possano essere condivise perché ci è capitato alla fine della consigliatura sul tema ve lo ricordate della variante di Soria in cui abbiamo trovato la convergenza con alcuni consiglieri della loro maggioranza. Ci auguriamo che nel prossimo futuro qualche collega che oggi siede nelle file del centro-sinistra comunque possa collaborare con noi per trovare una grande condivisione sui temi e sulle proposte. Andando dalla coalizione partiti fino al profilo personale questi 455 voti rappresentano per Giulia Marchionni un sintomo di fiducia importante sulla città. Sì sono un peso questo lo devo dire ci ho messo un attimo a realizzare il grande risultato che è un risultato sicuramente personale ma è un risultato di squadra. In questi cinque anni sono molto contenta e fiera della grande rete di rapporti che ho tessuto e oggi si vedono i risultati. In politica i numeri contano e contano le persone. Fiera è orgogliosa di essere un punto di appoggio e un punto fermo nel centro-destra pesarese. Da Pesaro passiamo a Fano. Questo pomeriggio si è tenuta anche una cerimonia di simbolico passaggio di consegne fra il sindaco uscente Massimo Seri che ha consegnato le chiavi della città a Luca Serfilippi neoeletto alla guida della terza città delle Marche. Ed ora lasciamo la politica. Passiamo alla cronaca. Sfruttava immigrati cinesi con turni di lavoro massacranti alloggiandoli in condizioni fatiscenti e proprio all'interno della stessa fabbrica. I carabinieri dell'ispettorato del lavoro hanno arrestato oggi un imprenditore anche lui cinese residente nel territorio di Acqualagna. Questa mattina un imprenditore cinese è finito in manette per caporalato in seguito alle violazioni emersi in un laboratorio tessile di Acqualagna da lui gestito. Per l'uomo è scattata la custodia cautelare in carcere per sfruttamento del lavoro di numerosi connazionali. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro Urbino assieme ai militari di Cagli, Acqualagna e della Guardia di Finanza di Urbino. L'arresto scatta su provvedimento del GIP del Tribunale di Urbino a seguito di un'ispezione che risale a gennaio 2021 presso la sede d'azienda operante nel settore tessile. L'indagato infatti approfittava dello stato di vulnerabilità di immigrati cinesi reclutati fra persone in cerca di lavoro desiderose di un contratto in grado di garantire loro l'opportunità del rilascio del permesso di soggiorno. La manodopera reclutata veniva impiegata in un regime di sfruttamento producendo un volume d'affari di oltre 700.000 euro fra il 2018 e fine 2020 attraverso un numero esiguo di personale utilizzato. In sospettita la polizia giudiziaria ha verificato che il personale effettuava turni di lavoro di 48 ore settimanali ovvero ben oltre il limite consentito. Gli accertamenti hanno poi appurato come i lavoratori alloggiassero in condizioni degradanti in loculi abitativi ricavati negli stessi ambienti di lavoro senza riscaldamento quasi privi di immobilio e in pessime condizioni igienico-sanitarie. Violate anche le basilari norme di sicurezza sul lavoro. Un E restando in tema di sicurezza sul lavoro torniamo ad occuparci dell'incidente mortale dello scorso 27 maggio alla FAB di Gallo di Petriano in cui ha perso la vita l'operaio 33enne Simone Mezzolani. Dopo gli approfondimenti di indagini la procura di Urbino sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del presidente del CDA della FAB Luigi Sperandio e del procuratore speciale della ditta Roberto Alessandrini. Le accuse riguarderebbero il non aver adeguatamente formato Mezzolani sulle specificità del macchinario industriale che ne ha causato il decesso. Proseguono anche le indagini su un'eventuale anomalia dello stesso macchinario con tecnici incaricati che forniranno una relazione alla magistratura entro la fine di questo mese. E proprio oggi a Palazzo Ducale di Pesaro è partita la tre giorni di Festival per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, un evento che ieri è stato preceduto dal concerto gratuito in piazza del popolo dal titolo Safety Love con tanti artisti di richiamo internazionale. L'esibizione di dieci grandi artisti sul palcoscenico di piazza del popolo per dieci principi fondanti la sicurezza sul lavoro, quelli del decalogo della carta di Urbino elaborato dall'osservatorio Olympus dell'Ateneo Urbinate. Un grande show per un grande messaggio, quello di Safety Love che martedì sera è stato l'evento di apertura del Festival Internazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro organizzato per la prima volta a Pesaro dalla Fondazione Rubestriva. Ad aprire lo show è stato Leo Gasman in una passerella di Big della musica che è passata attraverso le note coinvolgenti di Noemi, Malika Yan, Komakose e Big Mama. Oltre alla la presenza degli inesauribili animali da palcoscenico, Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Non solo musica, sul palco anche i messaggi profondi del drammaturgo Stefano Massimi e degli attori Neri Marco Re e Michela Andreozzi in una serata accompagnata dall'orchestra sinfonica Rossini e condotta dalla giornalista Monica Sette. L'evento ad ingresso gratuito aveva previsto una capienza di 3500 posti con qualche problema nella gestione dei varchi visto che la piazza si è riempita con largo anticipo andando ad ammucchiare tante persone alle transenne che poi sono comunque riuscite ad entrare allo show a metà serata. Uno show che sarà ritrasmesso in seconda serata su Rai 1 il prossimo 13 luglio. Paolo Costantini non è più presidente di APA Hotels. Il titolare dell'hotel Astoria si è dimesso dalla carica di presidente degli albergatori pesaresi. Costantini recentemente ha assunto la carica di presidente provinciale di Federalberghi ma non c'è incompatibilità con le due cariche. Per l'associazione si tratta di un'inattesa presidenza vacante all'inizio della stagione estiva. Lunedì 17 giugno è prevista l'assemblea del direttivo che dovrebbe individuare un nuovo presidente ma al momento non si scorgono candidati. Vi segnaliamo che questa notte rimarrà chiuso il casello autostradale di Pesaro in uscita per chi proviene da nord. La chiusura è funzionale a procedere per lavori di ripristino in seguito ad un incidente stradale avvenuto i giorni scorsi. Il casello rimarrà chiuso in uscita dalle 23 fino alle 5 di mattino mentre rimarrà regolarmente aperto in entrata. E restando in autostrada un nostro telespettatore ha filmato e ci ha inviato questo breve video di un'auto avvolta dalle fiamme nella corsia d'emergenza all'altezza di Ancona Sud. Autostrada poi messa in sicurezza dall'intervento dei vigili del fuoco. E allora vi ricordiamo sempre il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210. Cambiamo di nuovo argomento e parliamo della Megabox, azienda di Vallefoglia nota non solo per il suo grande sostegno alla pallavolo del territorio ma anche per le concrete azioni in tema di sostenibilità. La Megabox, azienda produttiva di imballaggi con sede a Vallefoglia, è stata recentemente nominata ambasciatrice della raccolta e del riciclo di carte e cartone dal Consorzio Nazionale Comieco. Un riconoscimento che sintetizza pieno quei valori che l'azienda, legata al movimento sportivo della pallavolo femminile sul territorio, redige ora in un bilancio di sostenibilità che è stato presentato nella sede peserese di Confindustria. Il bilancio di sostenibilità appena redatto è innanzitutto un documento volontario e ci teniamo particolarmente a sottolineare che all'interno del bilancio di sostenibilità abbiamo creato una nostra mission, un nostro slogan che sono le tre P, pianeta, persone e prosperità. Pianeta logicamente per la tutela del nostro ambiente, persone perché le persone sono l'energia e il volano di ogni singola impresa, prosperità perché unendo persone e il valore del pianeta possiamo portare avanti anche l'economia circolare, l'economia del riciclo e quindi la prosperità non soltanto dell'azienda ma anche di tutto il sistema produttivo. La Megabox che assieme ai suoi stabilimenti di peso recesena occupa complessivamente 160 addetti e fattura 90 milioni di euro si concentra su azioni ecosostenibili concrete. Vedi il 58% dell'energia prodotta in azienda che viene autoconsumata oppure la palazzina uffici certificata bassissimo consumo energetico o ancora un aumento del cartone riciclato del 24% rispetto all'anno precedente. Il percorso di aziendale che rispecchia le volontà familiari, le volontà imprenditoriali legate al rispetto, al territorio. Tutto questo ci ha portato a fare dei ragionamenti e comunque a portarci a riflettere su questi bilanci dove si elencano tutto quello che uno fa di buono in questo mondo di imprese ma anche di valori diversi dal business. Il futuro per la sostenibilità in Megabox è sicuramente puntare sul riutilizzo delle risorse. Il mondo non può più andare avanti utilizzando, consumando, spercando risorse quindi il nostro obiettivo è quello di riutilizzare risorse e aiutare i nostri clienti nel riutilizzare le risorse già esistenti, già in circolo. Negli ultimi anni il modo di produrre e il modo di essere presenti sul mercato è cambiato molto. Ci sono delle direttive ben precise quindi le grandi aziende saranno obbligate entro il 2026 a presentare il bilancio di sostenibilità, poi però tutte le grandi aziende lavorano con delle loro aziende in subfornitura e anche queste via via saranno comunque obbligate in qualche modo a crescere. È cambiato il modo di produrre, è cambiato il modo di rapportare l'azienda con la società, con l'ambiente e anche con i dipendenti. Queste linee guida, che adesso diventeranno anche linee guida normative, ci aiutano a creare questo percorso che come ho detto è ormai rinunciabile. Dalla Megabox Azienda passiamo alla Megabox Società di Pallavolo che oggi ha annunciato un nuovo ingaggio in vista del campionato di Serie A 2024-2025. Si tratta di Simone Lee, 28enne schiacciatrice americana che già vinse in Italia lo scudetto con Conegliano nel 2018 e dopo varie esperienze in Turchia, Giappone e Germania è rientrata in Italia lo scorso novembre sfoggiando un ottimo rendimento e garantendo ora uno rinforzo di qualità alla squadra di Vallefoglia. Continuiamo a parlare di sport, fra poco alle 20.30 a Ragusa l'Ital Service Loreto Basket giocherà a gara 1 della finale spareggio per approdare in Serie B nazionale. Per quanto riguarda invece l'Ital Service di calcio a 5, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale della separazione dall'allenatore Fausto Scarpitti. La società di Lorenzo Pizza ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in un'annata che ha innescato un proficuo percorso di ripartenza del futsal pesarese riportato da Scarpitti fino ad un'inaspettata semifinale scudetto. E chiaramente per tutti gli aggiornamenti seguite i nostri social, intanto continuate a restare con noi perché oggi è mercoledì e c'è il consueto appuntamento subito dopo questa edizione del nostro telegiornale con La Natura della Cultura, il nostro magazine che vi permette di essere aggiornati costantemente su ciò che accade in questo anno da capitale. E poi questa sera alle ore 21.20 la seconda puntata dell'Isola che c'è, documentario dedicato a Isola del Piano. Questa sera in questa seconda puntata conosceremo il sogno di un grande pioniere, Gino Girolomoni, che ha portato una sua visione di un mondo partecipando alla rinascita di un'agricoltura basata sul rispetto della terra e dei suoi ritmi. Un'agricoltura che solo in seguito verrà definita biologica, ma che agli inizi degli anni 70 era ancora considerata sovversiva. E noi conosceremo proprio questo personaggio importante e ammireremo anche il monastero di Montebello, cuore e simbolo di questa visione. E subito dopo una bellissima mostra fotografica che vi consigliamo di andare a visitare. Avete tempo fino a domenica a Palazzo Gradari, è gratuita. Mostra fotografica di foto che riguardano imprenditori del nostro territorio, foto anche molto vecchie che riportano a un passato importante dell'imprenditoria pesarese. Mostra che ha voluto fortemente bacciardi e in partners. E poi vi aspetto domani mattina con la nostra consueta rassegna stampa alle 7 e 20. Ed ora vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Grazie per averci seguito. Buona serata.